Beh, insomma diciamo che c'è bisogno di un po' di attenzione, perché non saranno tutti così per carità, però certo, quando ti trovi davanti, vecchiavi, è un porco, non è un porco? Ecco le intercettazioni boccacesche di Michele Nardi, indagato e detenuto a Melfi per corruzione, parla con un'amica, vero, ho la faccia da porco, stasera niente porno a cena. Le chat dello stratega, delle nomine Luca Palamara, non sono le uniche a mandare in pezzi l'immagine della magistratura. Da un fascicolo sui magistrati e i trani saltano fuori alcune trascrizioni di conversazioni intercettate che contribuiscono a imbarazzare il già provato comparto della giustizia. Un sacco di donne mi hanno detto, ma tu c'hai una faccia da porco. Michele Nardi, ex GIP a Trani, poi pubblico ministero a Roma e ora rinchiuso in una cella del penitenziario di Melfi, accusato di associazione a delinquere, finalizzata la corruzione di atti giudiziari, è stato intercettato al telefono con una sua amica con cui sembra avere una certa confidenza, una confidenza tale da permettergli di confessarle che l'interlocutrice ci aveva preso. Eh, da porco sadomaso, da porco pervertito. Insomma, ho detto, cazzo, ci ha azzeccato questa. Tra le risate l'amica svela l'Archiano, ci ha azzeccato perché forse tu hai rabbia, magari perché hai accumulato rabbia fino a 25 anni che non ti cagava nessuno e quindi le odi, le donne, un po' di odio tu ce l'hai. Lui confessa. Sì, ma fondamentalmente io sono un misogino. Non è che lei... Esatto, esatto, che ridere però. Introduci un altro argomento. Poi sai essere molto... Cioè, sai essere paterno. Lui continua nelle scabrose conversazioni. Infatti, a te, guarda, non ti sopporto per nulla, modalità paterna, perché sennò non ti sopporterei. È che io le donne non le sopporto. Certo che... Questo face parte dalle correnti di chi? Forse lo dice. Le repliche è vero e ti adoro perché mi fai anche un po' di da papà. Vedi? Ecco perché mi piace portare certi vestiti di cose, eh? Capito? Eh, lui chiosa. Che stronzo. Anzi, lei, lei chiosa. Che stronzo. E lui con grande foca spiega. Non le sopporto perché sono rompipalle, perché sono noiose, perché sono insistenti, perché sono ripetitive, perché parlano, eh? Parlano e non parlano. Cioè, vabbè. E insomma, io mi ero illuso che sta cena con il regista e con il fotografo fosse qualcosa di pornografico. E invece niente. Lei sta al gioco. Oh sì. Però si può anche deviare. In quel senso si possono fare due modalità. Facciamo prima quella un po' più seria dove devono fare qualche entrallazzo, secondo me. Lui la blocca. Se fosse una pornocena, forse una pornocena. E lei? Per il turismo. E poi facciamo per il turismo culinario e sessuale. Nardi rimarca. Sessuale. La conversazione ormai bocca accesca. Anche l'interlocutrice è scatenata. Culinaria. Culinaria. Gli investigatori hanno dato, lo risate, ma devono essersi divertiti a loro volta. E anche Nardi ripete. Culinaria. Culinaria. Pensavo fosse una cosa orgiastica. Niente. Vabbè. Hai capito? Ripeto. Non saranno tutti così, per fortuna. Però, va a capire, quando gli è capito sotto, se ti capita quello. Sì, faccia da porco, misogeno. Mamma mia. C'è ancora, e questo mi fa sorridere, chi se nasce a dichiarare dice, confido nella magistratura, te possono ammazzare. E tu devi stare dentro fino al collo per fare una dichiarazione simile. Io sarei terrorizzato da sta gente.